2.707 euro. A tanto ammonte ricavato del concerto di Natale che il 22 dicembre del 2021 al Teatro Maruccino di Chieti ha visto protagonisti il pianista Michele Di Toro, il tenore Piero Mazzocchetti con la partecipazione dell'attore Federico Perrotta. Una somma che è stata destinata alla clinica pediatrica dell'Università di Chieti, diretta dal professore Francesco Chiarelli, che servirà a ristrutturare la guardiola degli infermieri che è il front office del reparto. Il sindaco Diego Ferrara ha evidenziato che si tratta di una iniziativa che vuole essere il principio di un percorso virtuoso in collaborazione con la Aslanciano Vastocchietti. Mai come in questo periodo abbiamo potuto sperimentare sul territorio la sinergia vincente delle associazioni, delle istituzioni per venire incontro alle esigenze, come in questo caso anche di un ospedale, laddove le risorse sono poche e sono state dovute per forza di cose orientate in altri ambiti di emergenza. Quindi benvengano esperimenti di questo tipo anche nel futuro. Il vice sindaco Paolo De Cesare, l'assessore Manuel Pantalone e la vice presidente del Consiglio Comunale Silvia Di Pasquale hanno auspicato che questa iniziativa venga presa ad esempio da imprenditori e privati, in modo tale che possano moltiplicarsi gli eventi e le donazioni in favore della clinica pediatrica e dell'ospedale di Chieti. Il professore Chiarelli spera che presto all'ospedale Santissima Annunziata possa nascere un reparto di terapia intensiva pediatrica e che si possa frenare il fenomeno dell'emigrazione dei piccoli pazienti in strutture di altre regioni italiane. Con questo dono del Comune di Chieti abbiamo iniziato un percorso che speriamo ci porterà alla ristrutturazione del reparto dei bambini, proprio con l'obiettivo di rendere anche l'aspetto alberghiero del nostro ospedale il migliore possibile per i nostri bambini.